Saranno presentate nelle prossime ore al Tribunale delle Libertà di Bari le richieste di dissequestro del centro commerciale Granda Puglia di Foggia, sequestrato sabato dalla Procura di Foggia per presunti reati in materia ambientale e lottizzazione abusiva. Ore di attesa sia per gli otto indagati nell'inchiesta e anche per le oltre mille persone che avevano affidato il loro futuro alla nuova attività commerciale che doveva essere inaugurata tra due giorni. Un centro commerciale il più grande del meridione che avrebbe portato alla città benefici a cascata soprattutto dal punto di vista economico. Oltre alle mille assunzioni il nuovo centro commerciale avrebbe avuto certamente ricadute occupazionali in tutto l'indotto. E invece oggi è giunta una nota ufficiale che ha annullato l'inaugurazione prevista per mercoledì rinviata a data da destinarsi. Un'inchiesta a quale la Procura ha durato solo sei mesi dopo un esposto di un proprietario di alcuni terreni adiacenti al centro commerciale che avrebbe documentato i presunti rienti ambientali e la mancata bonifica dell'ex stabilimento Sfir. Il provvedimento della magistratura di sabato ha dunque un risvolto sociale che interessa al loro malgrado oltre mille famiglie che avevano già pensato di festeggiare il Natale in serenità con i loro cari. Ora invece il Natale non sarà così sereno. Ma se sui social network i commenti non sono mancati fa specie sentire il silenzio assordante della politica sull'intera vicenda.